Nell'ultima puntata abbiamo parlato dei rinoceronti, per cui io direi andiamo avanti con gli pachidermi, quindi oggi parleremo degli elefanti. In natura sono presenti tre specie di elefanti, due africane, una asiatica, però prima di parlare delle differenze tra le varie specie, facciamo come l'altra volta, parliamo di quello che è comune a tutte e tre le specie. Come già detto sono pachidermi, per cui hanno una pelle molto spessa, così come per i rinoceronti hanno una vista poco sviluppata che però viene compensata dall'olfatto e dall'udito e così come i rinoceronti sono erbivori, di conseguenza si cibano di foglie, erba, rami e hanno una dentatura ovviamente specializzata all'atto, per cui hanno un numero variabile di molari di grosse dimensioni. Fate finta di avere dei molari grossi quanto un mattone. La dentatura poi presenta una particolarità comune a tutte e tre le specie, ossia le famose zanne, che come ben sapete sono fatte di avorio. Cosa sono le zanne? Non sono altro che incisivi modificati per protendersi al di fuori dalla cavità orale, ossia della bocca, che sono presenti in tutte le specie di elefanti, anche se per esempio per quanto riguarda l'elefante indiano nelle femmine sono poco visibili o addirittura nascoste. Un altro organo vero e proprio che è presente in tutte e tre le specie è la proboscide, che tra l'altro ci aiuterà anche per le differenze, ma ne parleremo dopo. La proboscide non è nient'altro che il naso barra labro superiore che si sono fusi e si sono sviluppati per funzionare un po' come se fosse un quinto arto. È un organo molto sensibile, con molte terminazioni nervose, e come ben sapete viene utilizzato per funzioni di presa, piuttosto che movimentazioni di oggetti. Comunque, ripeto, è un arto fatto e finito. È leggendario alla loro memoria. Infatti, sono molti i casi in cui elefanti che sono stati separati da un gruppo, che possa essere sia di animali, ma anche di persone con cui hanno lavorato o vissuto per parecchi anni, ritrovandoseli dopo decenni anche, li riconoscessero come amici, familiari, e li salutassero. Tra l'altro sono animali che hanno una grande, possiamo dirla così, simpatia o antipatia per le persone con cui lavorano. Infatti, non sono rari i casi in cui si affezionano molto a una persona che si prende cura di loro, magari anche difendendola, piuttosto che provando antipatie per altre persone. Prima di parlare nello specifico delle tre specie di elefanti, guardate quanto è bella questa foto, l'abbiamo fatto io e mia fidanzata durante un viaggio in Sudafrica. Questa doveva essere la riserva naturale, credo, dell'Ulue Infolozi. Fatto sta che eravamo in giro con la nostra vettura per questa riserva, macchina fotografica alla mano, se non mi ricordo male stavamo guardando un elefante che stava brucando nei cespugli lì vicino, poi abbiamo sentito dei rumori e, tac, un'intera famiglia di elefanti africani con tanto di piccolo. Guardate che bello il piccolo, con le orecchiette tutte belle aperte. Vogliamo quindi l'occasione per iniziare a parlare delle due specie di elefanti africani. Questa nella foto è la classica famiglia di elefanti africani, anche detto di boscaglia. È l'elefante africano quello più riconosciuto e condivide parte dell'habitat con un altro elefante, detto elefante africano delle foreste. Dopo ovviamente vedremo tutte le differenze. Tornando invece al discorso degli zoo, gli elefanti più comunemente ospitati nelle strutture italiane sono generalmente l'elefante africano, chiamiamo così standard, ossia di boscaglia, e l'elefante indiano. Però mi sembra giusto per completezza di indagine parlare anche di quello delle foreste. L'elefante africano di boscaglia, anche se io continuerò a chiamarlo semplicemente elefante africano, nome scientifico l'oxodonta africana, è il mammifero terrestre più grande al mondo, seguito dall'elefante indiano. In entrambi i sessi sono presenti le zanne bene esposte, come detto prima hanno ovviamente la proboscide, e vivono in gruppi numerosi, generalmente in zone di savana o comunque con una vegetazione non molto fitta. L'elefante invece africano di foresta, nome scientifico l'oxodonta ciclotis, è un po' particolare perché fino a non molto tempo fa si pensava fosse una sottospecie dell'elefante africano, mentre invece in tempi recenti, viste le varie analisi di DNA, tutte le varie prove scientifiche che sono state portate, si è fatta una specie a parte, ora è una specie tutta a sé stante. Guardate bene la forma delle orecchie e guardate bene le dimensioni perché la differenza con l'elefante africano di boscaglia è proprio questa. L'elefante di africano di foresta ha le orecchie un po' più arrotondate e di dimensioni più piccole, ha tendenzialmente un colorito più scuro, anche se in alcuni testi si dice che le orecchie dell'elefante di foresta sono più sul rosato e come dice il nome stesso ovviamente predilige zone più forestali per cui con una vegetazione molto più fitta a differenza invece dei campi più aperti prediletti invece dall'elefante africano di boscaglia. Mi fatica a continuare a dire di boscaglia e di foresta. Spero di non incastrarmi. Io adesso ammetto la mia ignoranza, non so se in Italia in qualche zoo ci sia un elefante africano di foresta. ma non mi sono documentato, ve lo ammetto. Parlando un po' di dimensioni, questa bella immagine ci aiuta a capire la differenza tra l'elefante africano di foresta e l'elefante africano di boscaglia. Ovviamente l'immagine è in inglese, di conseguenza l'oxodonte africana, ossia quello di boscaglia, quello comune, viene indicato come bush mentre invece l'altro viene indicato come forest. Come potete vedere ovviamente le dimensioni superano di gran lunga quelle di un essere umano. Potete vedere che l'elefante africano supera abbondantemente i tre metri mentre invece quello africano di foresta si afferma più o meno circa sul due metri e mezzo e passa senza però riuscire a superare i tre metri. Prima di parlare invece della differenza tra l'elefante africano e l'elefante indiano dove sono presenti differenze anatomiche molto più visibili volevo farvi vedere questa bellissima foto sempre fatta da noi in cui si vede bene come è fatta una proboscide ossia questa fusione tra naso e labbro superiore in questa ripresa che abbiamo fatto di un piccolo nascosto sotto la madre in mezzo alla sterpaglia che credo che stesse cercando di andare a prendere il latte. Questo invece è l'elefante indiano è forse quello che troverete più comunemente negli zoo italiani perché è di dimensioni più ridotte e di conseguenza è un po' brutto da dire però è di più facile gestione. Come dimensioni siamo circa a un'altezza di 2,7-3 che comunque sono dimensioni molto considerevoli però comunque minori rispetto all'elefante africano di Boscaia il nome scientifico è Elaphas maximus e qua si capisce la differenziazione tra le specie africane e la specie indiana e vi prego di soffermarvi sulla forma del cranio sulla forma delle orecchie e per quanto possibile sulla proboscide anche se qua ovviamente non si vede la parte più importante perché infatti questo bel disegno ci aiuta a capire le differenze tra l'elefante africano e l'elefante indiano l'elefante africano ha delle orecchie molto grosse con una forma che ricorda vagamente il continente africano per cui larghe alla base e strette in punta e con dimensioni tali che vanno a coprire la spalla dell'animale mentre invece l'elefante indiano ha delle orecchie un po' più piccole che non arrivano a coprire le spalle dell'animale e che sono più passatemi il termine poco scientifico cadenti questo perché? perché ovviamente l'elefante africano essendo in Africa deve sopportare delle temperature maggiori e le orecchie così grandi aiutano a disperdere la temperatura corporea che viene accumulata stando sotto il sole poi prima vi dicevo della forma del cranio perché? perché il cranio dell'elefante indiano presenta una sorta di solco a metà del cranio formando una sorta di doppia collinetta sulla sommità della testa mentre invece l'elefante africano non ha presente questo solco e poi vi è la forma del dorso nell'elefante indiano è presente una sorta di collina nel punto più alto della schiena mentre invece nella controparte africana è presente un solco a metà della schiena che poi si direbbe dorso però non facciamo troppo gli scientifici ultimo ma non meno importante come detto prima la proboscide è un organo sensoriale e funzionale fatto e finito che però presenta una differenza tra queste due specie nell'elefante indiano potete vedere che vi è una sorta di dito nella parte superiore della proboscide mentre invece nell'elefante africano le protuberanze che fungono un po' come se fossero delle dita sono due una nella parte superiore e una nella parte inferiore lo stesso ovviamente sia nell'elefante africano di boscaglia che nell'elefante africano di foresta se volete un consiglio da parte mia se vi trovate in uno zoo e avete dei dubbi sull'identificazione di un elefante guardategli le orecchie è il metodo più semplice ed immediato per riconoscere se si tratta di un elefante indiano o africano magari la forma del cranio può essere un po' forviante io vi ammetto che magari ve l'ho spiegata un po' male però sicuramente la forma delle orecchie vi aiuterà a identificare o una o l'altra specie per quanto mi riguarda per gli elefanti è tutto però oggi vorrei aggiungere una piccola appendice a questo mio video mentre stavo raccattando un po' di informazioni e di materiali per fare questo video sono incappato in questa notizia ed è una notizia che passatemi il termine poco scientifico mi ha fatto letteralmente incazzare ossia la cina ha legalizzato l'uso delle ossa di tigre e del corno di rinoceronte per i loro scopi medici questo cosa vuol dire? vuol dire che tutte le battaglie che si sono combattute fino adesso tutto quello che cerchiamo di fare per salvaguardare una specie per combattere l'ignoranza per cercare di far sopravvivere queste specie contro dei pregiudizi delle scaramanzie delle superstizioni è andato bellamente a farsi fottere tanto che lo stesso articolo preso dal sito italiano del National Geographic afferma come potete vedere si afferma falsamente che il prodotto generalmente assunto sotto forma di polvere possa curare qualsiasi male però ovviamente non ci sono riscontri scientifici per questa stupidata a meno che non si parli di come riporta sempre lo stesso articolo si è trovata qualche forma di funzione antipiretica ossia serve a combattere la febbre in roditori ma è una cosa che fanno tranquillamente anche farmaci che possiamo trovare nella farmacia sotto casa come il paracetamolo o l'acido acetil salicilico ossia l'aspirina ma qual è la cosa grave di tutto questo? è quello che dicono nella prima frase ossia non si sa se la fonte di questa polvere sia presa da corni presi da animali presi in natura o allevati in fattorie il che ci pone di fronte a due problematiche ossia uno se i corni sono stati presi in natura vuol dire che stiamo fomentando il bracconaggio e la distruzione degli animali in natura cosa che stiamo lottando in tutti i modi in tutti i sensi perché non venga più effettuato questo bracconaggio e non venga più minata la sopravvivenza degli animali in natura se invece si sta parlando di fattorie è un controsenso assoluto perché anziché pensare alla loro riproduzione per salvaguardare la specie in natura per cui provare a rientrodurle poi una volta nell'habitat il governo cinese vorrebbe riprodurre questi animali con il solo scopo di perlevargli il corno che è una cosa che non ha alcun senso io quindi vi chiedo scusa per questo mio piccolo sfogo però è una notizia che è uscita qualche giorno fa e io onestamente ne sono venuto a conoscenza solamente oggi non so se i telegiornali ne hanno parlato ma figuratevi i telegiornali parlano di qualsiasi altra cosa e spero che l'aver portato questa notizia in questo mio piccolo e modesto video possa avere un po' possiamo così dire ispirato un po' di coscienza in quelli che l'hanno visto detto questo io chiudo qua e vi rimando al prossimo video che non so quando uscirà signori ciao 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 ciao